buongiorno ragazzi allora vediamo questo esercizio dal grafico della funzione integranda al grafico della funzione integrale quindi noi abbiamo praticamente il grafico no di una funzione di una derivata quindi dobbiamo stabilire ovviamente la primitiva di grafico della sua primitiva della funzione originaria diciamolo allora vediamo come svolgere questo esercizio allora intanto osservate bene ragazzi allora la parte che sto evidenziando questa parte qua della quindi questa è la funzione derivata ok allora come ben vedete la funzione è al di sopra dell'asse delle x quindi possiamo dire che la funzione la f primo di x è maggiore di zero mentre invece nel diciamo nell'intervallo da meno 3 a 1 la funzione al di sotto dell'asse delle x quindi la derivata in minore di zero mentre invece da 1 a 5 e maggiore di zero e dopo 5 e minore di zero quindi quali sono le considerazioni da fare benissimo allora come ben vedete ho riportato qui il grafico di prima allora la f primo è maggiore di zero e sappiamo che dove la f primo la derivata prima maggiore di zero la nostra funzione è crescente poi ovviamente da meno 3 a 1 la funzione la derivata prima è minore di zero quindi la nostra funzione qui sarà decrescente come ben vedete in questo punto e meno uno cosa succede beh in meno uno come ben vedete abbiamo la tangente no orizzontale alla derivata prima ma la tangente o meglio ancora il coefficiente angolare che in questo caso è uguale a zero della tangente della derivata prima altro non è che la derivata seconda e quindi in questo punto la derivata seconda è proprio uguale a zero quindi avremmo un punto di flesso ma cosa notiamo notiamo che la nostra derivata prima essendo decrescente da meno 3 a meno 1 ed essendo poi crescente da meno 1 fino a 1 anzi in realtà fino a 3 e beh però in questi tratti come ben vediamo essendo decrescente la derivata seconda sarà minore di zero e anche in questo caso invece essendo la funzione crescente la derivata seconda sarà maggiore di zero e sappiamo che dove la derivata seconda è minore di zero avremo la concavità verso il basso mentre invece dove la derivata seconda è maggiore di zero avremo la concavità verso l'alto fermiamoci a questo punto quindi la funzione è crescente quindi farò un pezzo di funzione questa è la nostra f di x che sarà ovviamente crescente arriverà al punto meno 3 dove la derivata prima è proprio uguale a zero vedete in questo punto la derivata prima è uguale a zero quindi questo sarà un punto di massimo poi comincia a diventare decrescente ma diventa decrescente in modo concavo perché vedete la derivata seconda è minore di zero quindi concavità verso il basso quindi diventa concava poi in questo punto proprio nel punto dove la derivata seconda è uguale a zero abbiamo il punto di flesso e poi da questo punto cambia concavità quindi abbiamo la concavità verso l'alto perché la derivata seconda è appunto maggiore di zero ok quindi andiamo avanti nel punto 1 abbiamo che la derivata prima è uguale a zero quindi questo sarà ovviamente un punto di minimo essendo arrivati proprio in prossimità di uno poi cosa notiamo qui ovviamente la derivata prima è maggiore di zero anche qui è maggiore di zero quindi la nostra funzione non può far altro che avere un andamento crescente è monotona crescente e vediamo le concavità allora la funzione crescente quindi la derivata seconda sarà maggiore di zero avremo la concavità verso l'alto invece in questo caso la funzione dopo 3 è decrescente e quindi la derivata seconda sarà minore di zero quindi concavità verso il basso ed ecco quindi concavità verso l'alto e concavità poi verso il basso il punto 3 è un punto ovviamente di flesso in cui la derivata seconda è proprio uguale a zero ok poi dopo 5 il punto 5 la derivata prima è minore di zero e quindi dopo 5 la nostra funzione diventa poi monotona decrescente questo è il modo diciamo si potrebbe anche creare una tabella ma in sede di esame creare una tabella tanto meglio riportare i valori come ho fatto io sullo stesso grafico e poi segnare la funzione questa è ovviamente la primitiva della funzione derivata passiamo ad un altro esercizio sempre dal grafico della funzione integrale al grafico della funzione integrale allora in questo caso osservate bene ho voluto fare qualcosa di più un po più completo allora questa è il grafico della funzione derivata allora andiamo a vedere nel dettaglio cosa succede allora ragazzi prima di meno 5 la derivata prima è maggiore di zero quindi la nostra funzione cioè quella in verde che vado a disegnare sarà monotona crescente nel punto 5 abbiamo la derivata prima che è uguale a zero quindi questo sarà un punto di massimo e poi dopo 5 fino a zero la derivata prima è minore di zero quindi la nostra funzione sarà monotona decrescente nel punto meno 2 come ben vedete abbiamo una tangente alla derivata prima o meglio ripeto il coefficiente angolare della tangente che in questo caso è uguale a zero quindi la derivata seconda sarà uguale a zero quindi questo sarà un punto di flesso ma vediamo che da meno 5 a meno 2 ovviamente dove a noi interessa la funzione è decrescente quindi la derivata seconda sarà minore di zero qui è crescente la derivata seconda sarà maggiore di zero poi nel punto zero abbiamo che la derivata prima è uguale a zero perché interseca appunto il punto zero e quindi questo sarà un punto ovviamente di minimo dopodiché osservate che la derivata prima da zero a uno diventa maggiore di zero quindi la nostra funzione sarà crescente ma attenzione che in questo caso ragazzi abbiamo per la nostra derivata prima un asintoto verticale beh noi cosa sappiamo degli asintoti verticali? beh sappiamo che questo punto può essere o un punto di cuspide oppure un asintoto verticale per la funzione ovviamente parlo della funzione invece la funzione è la primitiva beh effettivamente la derivata prima qui va a più infinito a sinistra di uno a destra di uno va a meno infinito e quindi come ben vedete io qui ho segnato un punto di cuspide ma in realtà attenzione che potrebbe essere anche un asintoto verticale vanno bene tutti e due i casi ok? va bene quindi andiamo avanti poi da meno uno a uno virgola cinque dove qui interseca quindi questo qua è in questo punto la derivata prima è uguale a zero comunque da uno a cinque la derivata prima è minore di zero quindi la funzione vedete è decrescente ovviamente qui abbiamo un punto di minimo poi la funzione diventa crescente ma anche da tre fino a quattro la nostra funzione è crescente è chiaro perché la derivata prima ben vedete è maggiore di zero e quindi ragazzi questo sarà un altro punto di flesso ovviamente dove la derivata seconda è maggiore di zero con cavità verso l'alto è minore di zero e verso il basso perché vedete qui la nostra funzione cresce quindi la derivata seconda è maggiore di zero qui decresce la derivata seconda è minore di zero in quattro ovviamente poi abbiamo un punto di massimo in questo caso perché qui la funzione cresce poi la derivata prima diventa minore di zero e quindi la nostra funzione avrà un andamento monotono decrescente adesso osservate questo caso in questa parte andando a più infinito la derivata prima è asintotica a meno uno cioè la derivata prima è uguale a meno uno però pensateci bene ragazzi la derivata prima è uguale a meno uno chi è? beh è il coefficiente angolare della retta tangente alla nostra funzione quindi io posso dire che questa, cioè la nostra funzione sarà tangente a un asintoto obbliguo di coefficiente angolare è meno uno è proprio questo il nostro asintoto obbliguo ce l'ho disegnato alla meno peggio ma dà comunque l'idea, va bene? quindi ragazzi ecco la nostra funzione allora prima di meno 5 la funzione è crescente punto di massimo funzione è decrescente perché la derivata prima è minore di zero la derivata seconda è minore di zero quindi concavità verso il basso meno 2 sarà un punto di flesso quindi poi concavità verso l'alto perché la derivata seconda è maggiore di zero qui ovviamente poi avremo la funzione che sarà crescente quindi questo punto può essere o un asintoto verticale o un punto di cuspide ok? poi ovviamente la funzione sarà decrescente perché qui la derivata prima è minore di zero fino ad arrivare al punto 1,5 dove avremo un punto di minimo dopodiché la funzione comincia a crescere perché la derivata prima è tutta maggiore di zero cresce fino ad arrivare al punto di massimo al punto 4 in cui la derivata prima è uguale a zero e poi sarà decrescente e asintotica al nostro asintoto obliquo di coefficiente angolare ovviamente m uguale a meno 1 perché ripeto se la derivata prima è asintotica alla retta y uguale a meno 1 ovviamente la derivata prima altro non è che il coefficiente angolare della retta tangente alla funzione ragazzi io spero di essere stato chiaro sono andato abbastanza lentamente per far capire quanto meglio possibile nel miglior modo possibile questo argomento e arrivederci al prossimo video grazie